Buonasera amici del TAM, il TAM il primo torneo che intervista i giocatori addirittura prima della partita. Siamo qui con il capitano di Eppe Ava, Giovanni Festival, espulso una volta passata ma ancora qui in campo perché era a farlo di doppia munizione. Allora Giovanni, questa partita contro Bocconci, spiegacela un po'. Sono giocatori esperti poiché hanno giocato il calcetto a 5 quindi penso che la partita non sarà tanto facile. Però noi ci mettiamo del nostro meglio quindi cercheremo di vincere in quest'altra partita. Come si disporrà la squadra? Quale squadra? La vostra, la vostra. Noi abbiamo un solo panchinaro, inizialmente penso che sono sempre gli stessi con un ottimo panchinaro che sta in forma, più in forma di me addirittura ultimamente. E la forma come va? Va crescendo ancora o va di me? No, 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 va crescendo perché uno più si allena può migliorare la qualità atleta. Un'ultima chicca, s'hanno giocato tutti che la finale sarà Ninti Store e Piavers, ci credi? Lo spero, lo spero perché Ninti Store sono tutti i miei amici quindi spero di fare questa finale e di vincerla. Bocca al lupo, buona partita!